Ciao ragazzi, in questo video parliamo delle cosiddette proprietà delle potenze, che sono una di quelle cose che si vedono di solito la prima volta alle scuole medie, ma che poi risaltano fuori continuamente sia alle superiori che anche a volte all'università. Per rendere il video il più semplice possibile, passeremo in rassegna le varie proprietà una dopo l'altra, facendo per ciascuna alcuni esempi relativi a delle potenze aventi come esponente un numero naturale. Senza perdere altro tempo, diamo subito un'occhiata alla prima di queste proprietà, che ci dice che il prodotto di due potenze aventi la stessa base è una potenza che ha ancora quella base lì e che ha come esponente la somma dei due esponenti. Per fissare meglio le idee e convincerci che le cose effettivamente stanno così, proviamo a dare un'occhiata a questo esempio, in cui come vedete abbiamo 2 alla terza moltiplicato per 2 alla seconda. Ora, 2 alla terza, come sapete, è uguale a 2 per 2 per 2, mentre 2 alla seconda è uguale a 2 per 2 e quindi come vedete questo prodotto di potenze è uguale al risultato di queste moltiplicazioni. Ora, se contiamo quanti due moltiplicati tra di loro ci sono qui, vedete che ne abbiamo 3 azzurri e 2 verdi e quindi come intuita si conclude che il prodotto delle due potenze è uguale a 2 alla quinta e quindi come vedete abbiamo ottenuto alla fine una potenza che ha la stessa base delle due che stavamo moltiplicando e che ha come esponente la somma degli esponenti delle due potenze. Naturalmente un ragionamento analogo può essere replicato quando moltiplichiamo due qualsiasi potenze aventi la stessa base e nel momento in cui ci si convince che vale questa proprietà è chiaro che in una situazione come questa non si perde più tempo a scrivere passaggi intermedi ma si vola, diciamo così, direttamente al risultato. Se quindi ci venisse chiesto di calcolare il prodotto tra 3 alla quarta e 3 alla sesta possiamo subito rispondere che esso è uguale a 3 alla decima, mentre se ci venisse chiesto di moltiplicare un mezzo alla terza per un mezzo alla quarta possiamo subito rispondere che il risultato è un mezzo alla settima e questo esponente 7 che c'è qui non è altro che la somma tra l'esponente 3 della prima potenza e l'esponente 4 della seconda potenza. Similmente se ci venisse chiesto di moltiplicare meno 2 alla terza per meno 2 alla settima, possiamo subito concludere che il risultato è meno 2 alla decima e dato che, come abbiamo già visto, quando l'esponente è pari il risultato alla fine viene positivo, possiamo volendo riscriverci meno 2 alla decima direttamente nella forma equivalente più semplice 2 alla decima. Appurato questo diamo adesso un'occhiata alla seconda proprietà che è molto simile alla precedente, solo che invece che riguardare la moltiplicazione di potenze avventure, la stessa base, riguarda questa volta la divisione. Come vedete la proprietà ci dice che il quoziente tra due potenze avventi la stessa base è una potenza che ha ancora quella base lì e che ha come esponente la differenza dei due esponenti. E a differenza del caso precedente, visto che questa volta abbiamo a che fare con una divisione, dobbiamo però richiedere che ha sia diverso da zero. Per fissare meglio le idee e convincerci che le cose effettivamente stanno così, proviamo a dare un'occhiata a questo esempio in cui ci viene chiesto di dividere 2 alla quinta per 2 alla terza. Ora, come sapete, possiamo riscriverci questa divisione anche come 2 alla quinta fratto 2 alla terza. E visto che 2 alla quinta è uguale a 2 per 2 per 2 per 2 per 2 e 2 alla terza è uguale a 2 per 2 per 2, vedete che una volta semplificati questi due ci ritroviamo alla fine con 2 per 2, cioè con 2 elevato sostanzialmente alla 5 meno 3, cioè alla differenza dei due esponenti. E quindi si conclude che il tutto è uguale a 2 alla seconda. Ora, un ragionamento simile si può fare naturalmente anche quando facciamo il quoziente di due qualsiasi altre potenze aventi la stessa base, a patto che questa base sia diversa da zero. E quindi nel momento in cui uno si è convinto che vale questa regola qui, in una situazione come questa non scrive i passaggi intermedi e salta, diciamo così, direttamente al risultato. Se quindi ci venisse chiesto di calcolare 3 alla nona diviso 3 alla quarta, alla luce di questa proprietà possiamo concludere subito che il risultato è 3 alla quinta. Mentre se ci venisse chiesto a che cosa è uguale un mezzo alla ottava diviso un mezzo alla sesta, alla luce di questa proprietà possiamo concludere subito che il tutto è uguale a un mezzo alla seconda. E il 2 che vedete qui è naturalmente la differenza tra 8 e 6. Appurato questo diamo adesso un'occhiata alla terza proprietà che è importante ricordare e che ci dice sostanzialmente che nel caso di potenza di potenza gli esponenti si moltiplicano. Per capire come mai le cose stanno effettivamente così proviamo a dare un'occhiata a questo esempio in cui come vedete ci viene chiesto di calcolare il quadrato di 2 alla terza. Come ricorderete fare il quadrato di una certa quantità significa moltiplicare quella quantità per se stessa e visto che 2 alla terza è uguale a 2 per 2 per 2, quando moltiplichiamo 2 alla terza per 2 alla terza ci ritroviamo alla fine vedete con 6 due moltiplicati tra di loro, ovvero con un numero di 2 moltiplicati tra di loro che è pari al prodotto tra i due esponenti che avevamo. E quindi si conclude in questo caso che il tutto è uguale a 2 alla sesta. Ora un ragionamento simile a quello che abbiamo appena visto si può fare ogni qualvolta abbiamo a che fare con una potenza di potenza. E nel momento in cui uno si è convinto che vale questa proprietà qui, nel momento in cui si trova davanti una potenza di potenza, naturalmente non scrive tutti questi passaggi intermedi e conclude subito che alla fine si ottiene una potenza con la stessa base avente come esponente il prodotto dei due esponenti. Nel caso ad esempio di 2 alla quarta elevato alla terza possiamo subito concludere, alla luce di questa proprietà, che il risultato è 2 alla dodicesima e questo 12 non è altro che 4 per 3. E similmente, se ci venisse chiesto di calcolare il quadrato di 3 alla seconda, possiamo subito concludere che esso è uguale a 3 alla quarta. Se invece ci venisse chiesto di calcolare meno 3 alla terza il tutto elevato alla quinta, possiamo subito concludere che il risultato sarà meno 3 elevato alla quindicesima, dove questo 15 non è altro che 3 per 5. Mentre se ci venisse chiesto di calcolare il quadrato di un mezzo alla ottava, possiamo subito concludere che il risultato è un mezzo alla sedicesima. Appurato questo, ci restano a questo punto da vedere altre due proprietà che capita di utilizzare forse meno frequentemente delle tre che abbiamo visto fin qui, ma che ogni tanto, diciamo così, saltano fuori negli esercizi. La prima ci dice sostanzialmente che quando moltiplichiamo due potenze, che hanno questa volta allo stesso esponente, quello che si ottiene come risultato è una potenza che ha ancora quell'esponente lì e che ha per base il prodotto delle basi. E per capire come mai le cose stanno così, proviamo a dare un'occhiata a questo esempio in cui ci viene chiesto di moltiplicare 2 alla terza per 3 alla terza. Come vedete, 2 alla terza è uguale a 2 per 2 per 2, mentre 3 alla terza è uguale naturalmente a 3 per 3 per 3. E visto che la moltiplicazione gode della proprietà commutativa, possiamo riscriverci questa serie di moltiplicazioni anche come vedete qui sotto, ovvero come 2 per 3 per 2 per 3 per 2 per 3. E visto che 2 per 3 è uguale a 6, come vedete alla fine concludiamo che il tutto è uguale semplicemente a 6 per 6 per 6 per 6, ovvero a 6 alla terza. E quindi vedete che abbiamo ottenuto alla fine una potenza che ha ancora lo stesso esponente delle due che stavamo moltiplicando e che ha per base il prodotto delle due basi. Un ragionamento simile si può fare naturalmente ogni qualvolta moltiplichiamo due potenze che hanno lo stesso esponente e quindi nel momento in cui uno ha capito come funzionano le cose e si memorizza questa proprietà, nel momento in cui incontra una situazione come questa, non perde tempo con passaggi intermedi e vola direttamente al risultato. Se quindi ci venisse chiesto ad esempio di calcolare 2 alla seconda per 5 alla seconda, alla luce di questa proprietà si può concludere subito che il risultato è 10 alla seconda, mentre se ci venisse chiesto di moltiplicare un mezzo alla terza per un quinto alla terza, possiamo concludere subito che il tutto è uguale a un decimo elevato alla terza. Appurato questo, la seconda delle due proprietà di cui vi accennavo poco fa, ci dice invece che il quoziente tra due potenze che hanno lo stesso esponente è una potenza che ha ancora quell'esponente lì e che ha per base il quoziente delle due basi. E naturalmente trattandosi di una divisione dobbiamo questa volta richiedere che B sia diverso da 0. Per convincervi che le cose effettivamente stanno così, vedete che qui sulla destra vi ho riportato l'esempio di 10 alla terza diviso 5 alla terza, che possiamo naturalmente riscriverci come 10 alla terza fratto 5 alla terza. Ora 10 alla terza, come sappiamo, è uguale a 10 per 10 per 10, mentre 5 alla terza è uguale a 5 per 5 per 5. E come vedete, quello che c'è scritto qui è uguale a 10 quinti per 10 quinti per 10 quinti, ovvero a 10 quinti elevato al cubo. E naturalmente 10 quinti, ovvero 10 diviso 5, è uguale a 2. Come si nota abbiamo quindi ottenuto alla fine una potenza che ha lo stesso esponente delle due da cui eravamo partiti e che ha per base il quoziente tra le due basi. E naturalmente un discorso simile si può fare ogni qual volta ci ritroviamo ad avere la divisione tra due potenze che hanno lo stesso esponente. Nel momento in cui quindi uno ha capito bene questa proprietà e si è, diciamo così, memorizzato questa regoletta, in una situazione come questa non perde tempo con passaggi intermedi ed ha immediatamente, diciamo così, la soluzione. Giusto per fare un paio di esempi, se quindi ci venisse chiesto a che cosa è uguale 4 alla quinta diviso 2 alla quinta, alla luce di questa proprietà possiamo rispondere subito 2 alla quinta, mentre nel caso di 3 alla sesta diviso 2 alla sesta, in base a questa proprietà possiamo concludere che il risultato sarà 3 diviso 2, cioè 3 mezzi elevato alla sesta. Per concludere, prima di salutarvi, volevo ricordarvi due cose importanti. La prima, che abbiamo già accennato in altri video, è che se a è diverso da 0, allora a alla 0 si pone uguale ad 1 e quindi qualunque numero non nullo elevato alla 0 è uguale ad 1. Per capire come mai, intuitivamente, si fa questa scelta, diamo un'occhiata all'esempio che vi ho riportato qui sulla destra. Come vedete, abbiamo 2 alla decima fratto 2 alla decima e come sappiamo, trattandosi della divisione di due cose uguali tra loro, il risultato non può che essere 1. D'altra parte, in base alla seconda delle proprietà che abbiamo visto prima in questo video, trattandosi della divisione di due potenze aventi la stessa base, possiamo riscriverci questa cosa qui anche come 2 elevato alla differenza degli esponenti, cioè elevato alla 10 meno 10. E quindi, come vedete, concludiamo che questa cosa qui deve essere anche uguale a 2 alla 0. Dando un'occhiata a questa catena di uguaglianze, si conclude che 2 alla 0 deve essere uguale ad 1 e intuitivamente, generalizzando questo ragionamento, si conclude che se vogliamo che le proprietà delle potenze restino valide anche nel caso di esponenti nulli, l'unica possibilità è porre le cose non nulle elevate alla 0 uguali ad 1. Infine, l'ultima cosa che volevo dirvi è di prestare sempre attenzione a quelle situazioni in cui non si può usare nessuna delle proprietà che abbiamo visto prima e in questi casi, mi raccomando, non bisogna inventarsi delle proprietà che non esistono. Ad esempio, in una situazione come questa, potremmo essere ingenuamente tentati di scrivere che il risultato è 4 alla decima, ma se ci pensate bene, nessuna delle proprietà di cui abbiamo parlato in questo video ci consente di concludere che questa uguaglianza è corretta e infatti l'uguaglianza è palesemente falsa. Per convincervi di questo potete provare a calcolare con una calcolatrice 2 alla decima e 4 alla decima. Ci si convince subito che 2 alla decima è uguale a 1024, mentre 4 alla decima è maggiore di un milione ed è quindi chiarissimo che la somma di queste due cose, che è di poco superiore a 2000, non può essere uguale a questa cosa qui che è maggiore di un milione. Mi raccomando, quindi, in una situazione come questa è importante non inventarsi delle proprietà e quando abbiamo a che fare con una somma di potenze con la stessa base o anche con una sottrazione di potenze con la stessa base, in generale, diciamo così, non c'è nulla di particolarmente furbo che possiamo fare e molto spesso l'unica cosa che ci resta da fare eventualmente è calcolare le potenze singolarmente e poi sommare i numeri che si ottengono. In questo caso specifico, però, visto che le due potenze sono proprio uguali tra di loro, nel senso che c'è sia la stessa base che lo stesso esponente, possiamo dire che 2 alla decima più 2 alla decima è uguale a 2 volte 2 alla decima. Un po' come per capirci diremmo che una caramella più un'altra caramella è uguale a 2 caramelle. A questo punto, visto che 2 lo possiamo pensare come 2 elevato alla prima, in base alla prima proprietà che abbiamo visto in questo video, possiamo concludere che si ottiene 2 alla undicesima. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato, fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi fosse rimasta qualche domanda sulle potenze. Come sempre, se trovate utili queste lezioni ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su Facebook ed Instagram e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale dove presto arriveranno moltissimi altri video. Grazie a tutti.